Un importante finanziamento arriva dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza della copertura della Chiesa di Santa Lucia di Adano. 430.000 euro dal PNRR per eliminare le infiltrazioni di acqua che, oltre alla storica struttura, hanno danneggiato a freschi come quelli di Sant'Ambrogio Vescovo, che si spera di restaurare con un successivo e specifico finanziamento. L'intervento è finalizzato al recupero architettonico delle guie e della copertura della Chiesa di Santa Lucia, ad annunciare l'arrivo del finanziamento alla Proloco di Adano, che ha richiesto e ottenuto il finanziamento in questione. Se ne è parlato nel corso di una conferenza stampa nella Chiesa di Santa Lucia, alla presenza del Cavalier Niccolò Moschitta, Presidente della Proloco, alcuni soci dell'Associazione e di Don Giuseppe Calambrogio. Padre Calambrogio, allora diventa in realtà il finanziamento per fare tornare l'antico splendore, l'ex monastero di Santa Lucia e la Chiesa? I sogni si realizzano. Ecco, io sono molto contento dell'intervento della Prefettura, in armonia con la soprintendenza e i monumenti, perché si salvaguarda questo bene prezioso che è la Chiesa di Santa Lucia. Vorrei anche esprimere un pensiero. Quello che noi abbiamo ottenuto si deve all'iniziativa della Proloco di Adano. Quindi loro, insieme all'architetto Sant'Angelo, hanno fatto in modo che la Prefettura intervenga al riguardo. Se qualcuno volesse sapere perché deve intervenire la Prefettura, la ragione è questa. Dal 1866 la Chiesa di Adano non è più proprietà della Chiesa, è proprietà dello Stato. E quindi tutte queste Chiese che allora furono sequestrate agli ordini religiosi, formano un'organizzazione chiamata FEC. Allora noi che siamo in Chiesa, un Rettore scrive, chiede e lo Stato interviene. In tutto questo si comprende bene che il ruolo delle amicizie è prezioso. Il padre Calambrogio lei diceva, ho un ulteriore desiderio, che questa Chiesa venga abbellita ulteriormente, il pavimento e altre questioni, affinché ritorni come quella bella sposa che ha ispirato la costruzione di questa Chiesa. E che è ricordata nell'epigrafe che abbiamo entrato in Chiesa a destra. Ecco come la sposa scende, la nuova Gerusalemme scende dal cielo, così si guarda a questa Chiesa. Ma insomma, brevemente, se abbiamo qualcosa di bello, perché lo dobbiamo sciupare e trascurare? Presidente Moschitta, allora 430.000 euro per la Chiesa di Santa Lucia. Vogliamo ricordare a cosa serviranno, quali sono gli interventi per la Chiesa? Questi finanziamenti serviranno sicuramente a restaurare le guglie della Chiesa ed il tetto, in quanto noi avevamo segnalato che l'affresco di Sant'Ambrogio Vescovo iniziava a consumarsi a causa dell'umidità. E quindi subito ci siamo attivati con l'architetto Carmelo Sant'Angelo e abbiamo contattato padre Calambrogio, il quale ci ha autorizzato a fare una relazione che abbiamo spedito alla Prefettura. La Prefettura di Catania è stata, diciamo, sollecita nel trasmettere gli atti alla sovrintendenza che ha subito predisposto un sopralluogo e ha redatto una scheda di intervento per la somma di 430 mila euro proprio per sanare questa deficienza da noi segnalata. I fondi sono stati reperiti presso i fondi del PNRR come monumento da restaurare con i fondi fecche. I fondi fecche sono quei fondi del Ministero dell'Interno che utilizza per il restauro delle chiese e dei monumenti che appartengono alla sua proprietà compresa la chiesa di Santa Lucia. Sendo allora i soldi ci sono, quali sono i successivi passi che dovranno concretizzarsi affinché poi si arrivi alla via dei lavori? Sicuramente ci saranno poi tutta una serie di progettazioni specifiche e quindi ci sarà una gara di appalto e quindi saranno consegnati i lavori. Io spero il più presto possibile in modo che si possa salvare l'affresco e quindi anche parte della chiesa perché è gravemente minata da questa umidità.